L'immunoterapia ha rivoluzionato e sta rivoluzionando il trattamento di molti tumori, primo fra tutti il melanoma che ha fatto da apripista. Proprio agli avanzamenti sull'immunoterapia del melanoma, ma anche di altre neoplasie, tra cui polmone, vescica e mammella, è dedicato un doppio appuntamento congressuale che è in corso qui a Napoli, Melanoma Bridge e Immunotherapy Bridge. Noi ci facciamo raccontare qualcosa di più, quali sono le principali tematiche trattate, quali le novità più significative emerse durante questi giorni, dal professor Paolo Ascerto, che è uno dei presidenti del congresso. Professore, perché questo doppio convegno sull'immunoterapia? Uno incentrato nello specifico sul melanoma e uno invece sull'immunoterapia in altri tumori. Perché è un doppio bridge? È molto semplice, perché nasce il bridge come Melanoma Bridge, anche perché l'immunoterapia è nata con il melanoma, dopodiché l'immunoterapia si è stesa a altri campi come il tumore del polmone, del rene, l'urotereo, l'infoma di oggi, e ne possiamo anche contare altri. Però le problematiche sono diverse da quelle del melanoma, anche l'efficacia non è la stessa, dipende dalle caratteristiche di questo tumore. Ecco, perché c'è la necessità di avere anche un immunoterapia bridge, dove si parla di altro, altri tipi di tumori differenti dal melanoma, perché le problematiche sono diverse. Quali sono i temi più caldi di cui si è parlato e quali le novità più significative presentate durante il melanoma bridge, che giunge quest'anno alla sua decima edizione, lo ricordiamo? Durante il convegno si è parlato degli aspetti che riguardano sia la terapia, quindi nella diuvante, dove ci sono le novità, e nella malattia avanzata con le nuove combinazioni. Tra l'altro ci sono dati interessanti nella neo diuvante, che è praticamente un qualcosa che sta arrivando al momento in fase di sperimentazione, secondo me ci sono dei buoni dati molto interessanti, che vengono da questa. Quindi un significato completamente diverso che potrebbe dare, diciamo, questa nuova frontiera. E poi si è parlato dei meccanismi di resistenza. Come fare a poterli superare? Perché al momento il 50% dei pazienti può avere un beneficio a lungo termine, ma noi vogliamo che questa barra si alzi sempre di più. Quali sono invece gli argomenti principali affrontati durante il convegno Immunotherapy Bridge e quali gli avanzamenti più significativi che avete presentato? Durante l'Immunotherapy Bridge si è parlato soprattutto di quei tumori dove l'immunoterapia non funziona come noi vorremmo. Per esempio il tumore della mammella, il tumore del pancreas, il tumore dell'ovaio. E nel corso dell'Immunotherapy Bridge è emerso anche che le buone notizie vengono nel tumore della mammella dove ci sono dei segnali molto importanti con la combinazione con la chemoterapia. Nell'ovaio ci sono quantomeno dei trial interessanti utilizzando anche dei virus oncolitici e la stessa cosa anche per quanto riguarda i tumori del pancreas. Quindi nel futuro possiamo immaginare che anche in questi tipi di tumori l'immunoterapia potrebbe dare dei buoni risultati. Si è parlato anche delle cosiddette terapie avanzate, cioè gli Advanced Therapy Medicinal Products. Sì, si è parlato anche delle ATM, come si dice in gergo, e lì c'è tutto un ambiente molto caldo perché oramai in nematologia questo tipo di trattamenti è un trattamento che abbiamo all'ordine del giorno. Nei tumori solidi ci sono molte più caratteristiche che rendono difficile l'approccio. Però anche lì ci sono studi in corso che rendono questa strategia molto interessante per il futuro. Sulla base di quanto è emerso in questo doppio meeting, quali sono le nuove frontiere dell'immunoterapia dei tumori e del melanoma in particolare? E in che direzione sta andando la ricerca? Per quanto riguarda le nuove frontiere nel melanoma, ovviamente si guarda molto a quel 50% che non ha un beneficio. Che fare in questi pazienti? Ci sono nuove combinazioni, probabilmente in futuro qualche cosa vedremo da queste nuove combinazioni. E poi c'è la cosiddetta dotty cell therapy, anche lì ci sono dei dati preliminari interessanti e anche lì c'è un filone per quanto riguarda le CAR-T, le CAR-NK, quindi l'approccio CAR, dove probabilmente avremo ulteriormente delle novità importanti. Per finire, un bilancio del congresso? Il congresso, il bilancio è positivo, come sempre, anche perché lo spirito del bridge è un piccolo meeting ma dove c'è molta discussione, nuove idee e probabilmente, così come è capitato in passato con l'immunoscore che è nato qui al bridge, potremmo avere qualche progetto interessante.